questo invitare e di fatto imporre perché poi questo genere di spinta ti toglie libertà di scelta no lo dicevi prima se scegli sempre in base al giudizio degli altri scegli sempre in base a quello che è la percezione del tuo atto ecco questo invito alla reiterazione questo è qualcosa di assolutamente nuovo un fenomeno che prima non esisteva l'emulazione come dicevi c'è sempre stata ma i social hanno aggiunto un carico a questo è evidente anche l'invenzione dei caratteri mobili dalla stampa ha prodotto una forma di reiterazione nel senso che potevi ripetere un messaggio che prima dovevi copiare a mano giusto però era una cosa diversa molto più lente adesso è la reiterazione di tutto messaggi audio messaggi video messaggi quindi è questo è un però è il famoso genio fuori dalla bottiglia è lì dobbiamo imparare a gestire questa cosa io sono convinto che alcuni degli aspetti più brutti e grotteschi e pericolosi ci penserà il tempo non risolverà tutto ma il tempo aiuterà io sono convinto che cose andranno meglio non peggio perché stiamo imparando come società e anche i ragazzi a metabolizzare quelle cose ogni nuova invenzione ha portato un uno spiazzamento completo l'ha portato la televisione l'ha portato gli aeroplani l'ha portato l'elettricità l'ha portato il telefono l'ha portato i messaggini sul telefono negli anni 90 allora ogni eh grandissima invenzione è in italia in milanese moderno si dice disrupting cioè rompe un meccanismo questo l'ha rotto più degli altri qui dobbiamo anche pensare che gli adolescenti di oggi che sembrano eh come si dice succubi e vittime e passivi davanti a certi strumenti di fatto stanno imparando a dominarli e quando è fra dieci anni rideranno eh di di alcune esagerazioni perché impariamo a usarli metabolizziamo degli strumenti nuovi entrano nelle nostre vite l'importante è far sì che i ragazzini di 15 anni o 16 anni con questi strumenti in mano potentissimi ci arrivino a 26 anni questo è il compito il compito degli adulti Maria Serena tu sei più giovane è impedire sempre degli adulti è impedire che la generale che i figli si facciano del male in modo che facciano in tempo eventualmente a capire gli errori che hanno fatto così è stato per i miei genitori e va fino a Adamo e Deva più o meno così grazie 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 grazie